Buonasera alla vigilia di Pasqua per questi nuovi dati sull'epidemia, permettetemi prima di tutto, gli auguri no li facciamo alla fine, permettetemi prima di tutto una considerazione sui commenti che ogni tanto vedo spuntare durante la diretta, che noi daremmo dati sbagliati apposta, questi sono tutti quelli che credono che la terra sia piatta, quelli che ci sia un complotto sempre, che non siamo mai andati sulla luna, quindi noi daremmo fintamente dei dati, ma forse anche esagerando, per creare panico nella popolazione, a me non pare di essere uno che crea panico, anzi devo dire che una delle qualità, forse l'unica qualità è quella che sono abbastanza calmo e comprensivo quando do i dati, se non ho bisogno di creare panico penso che avrebbero scelto sicuramente una persona un po' più concitata di quello che io riesco ad essere, quindi i complottisti se vogliono facciano pure il loro blog, se parlano tra di loro così si convincono sempre di più della bontà delle cose che raccontano, noi qui facciamo le cose un po' più seri, parliamo di cose molto più serie che non siano quelle che riguardano il fatto che la terra sia piatta, abbiamo superato questa convinzione da ormai 500 anni. Detto questo, naturalmente raccontiamo i dati di oggi, non sono molto differenti rispetto a quelli di ieri, ma su alcuni di loro di questi farò qualche commento in particolare e come sempre cominciamo con le brutte notizie e cioè i decessi, i decessi sono più o meno come ieri e naturalmente questo smentisce il fatto che io tutti i giorni dico mi auguro che calino, siamo ancora in una fase in cui siccome rappresentano malattie, poi spiegherò anche non soltanto malattie di un paio di settimane fa o tre settimane fa quando sono iniziate, ma anche per il fatto che in alcune giornate arrivano anche i dati di persone che non sono, erano state semplicemente classificate come sospetto Covid, che poi vengono classificate come Covid soltanto nel momento in cui arriva la conferma diagnostica e questo può arrivare anche, come in questo caso, addirittura ce n'è una di un mese fa a Reggio Emilia, perché purtroppo questi tamponi vengono eseguiti non con la priorità di quelli che facciamo sulle persone che sono malate e che hanno bisogno di sapere immediatamente la causa della morte. Quindi i morti purtroppo anche oggi sono sostanzialmente quelli che erano ieri e rispecchiano, anche se questa non è una consolazione, il fatto che sono persone che hanno perduto la loro vita per malattie che erano iniziate nella fase acuta, nella fase in cui toccavamo picchi di quasi mille infettati al giorno, in un momento in cui la malattia aveva anche conseguenze molto devastanti, a differenza di oggi. Un'altra delle cose che voglio dire per tranquillità di qualcuno che si preoccupa della giustizia, delle considerazioni che faccio riguarda la questione che ho detto più volte che la malattia si manifesta in una forma meno grave del passato, lo confermo. Oggi i quadri che noi vediamo negli ospedali non sono quadri che precipitano rapidamente verso una polmonite bilaterale con conseguente necessità di terapie intensive. Vediamo dei quadri decisamente meno gravi, come dovrei dire, secondo Costoro, che la malattia la affrontiamo prima, può anche darsi che la affrontiamo prima. Certamente non vediamo, e lo dicono i radiologi, non lo dice Sergio Venturi, nelle loro tac che vengono fatte o nelle ecografie che vengono fatte, non vediamo quadri che vedevamo almeno 15-20 giorni fa. Secondo me significa che la malattia si presenta in una forma meno grave. Questo non vuol dire corriamo fuori, come qualcuno mi dice, no ma non dare notizie positive se no la gente si precipita fuori. Io spero invece progressivamente di continuare a dare, anzi di incrementare la quantità di notizie positive da dare, perché il mio compito è questo, sarebbe anche questo. Quindi quando ho notizie positive, come alcune notizie che vi darò dopo, lo faccio volentieri. Mi auguro che progressivamente nel corso delle giornate che passiamo insieme alle 17-30 sia un progresso costante nella cura della malattia e nella riduzione delle forme gravi della malattia. Detto questo vi dico naturalmente dove i decessi si sono manifestati, come sempre nelle zone più colpite, con una parentesi oggi che riguarda Reggio Emilia, perché è Reggio Emilia ha quasi decessi di Parma, Piacenza si riduce significativamente, Piacenza 6 decessi oggi, Parma mantiene 21 decessi, 20 Reggio Emilia. Vi fermo un attimo in questo caso per rappresentare che Parma sta verificando, ho chiesto un approfondimento rispetto all'accordo con le due direzioni generali, perché ho fondati motivi per ritenere che anche qui ci sia una sorta di ritardo nelle comunicazioni fino all'arrivo alle direzioni sanitarie, perché in ospedale oggi se avessimo contatti di eccesso ospedalieri che sono avvenuti in ospedale, sono mi sembra 6, quindi molto pochi, gli altri ho l'impressione che anche questi siano fortemente in ritardo rispetto ai decessi veri e propri che si sono verificati e che si attende la conferma dell'Istat, perché il medico necroscopo quando questi decessi non avvengono per esempio in ospedale o avvengono in una casa di cura, il medico che fa il certificato di morte scrive sospetto e procede al tampone, in questo caso la notizia si ha anche molto dopo, comunque sono sicuro che martedì, perché ho chiesto esattamente questo approfondimento, avremo anche molte più notizie da dare, mi auguro anche meno decessi, ma oltre a questo anche una spiegazione relativamente a come la scansione di questi avviene. I dati in generale li conosco, circa la metà rappresentano decessi effettivamente in generale nella regione e quindi questo riguarda tutte le regioni che vengono dati da tutte le regioni a livello nazionale, circa la metà sono del giorno prima, ma poi si va anche indietro nel tempo, questo è dovuto alla necessità di attribuire da parte degli organismi competenti il decesso effettivamente alla malattia. Segnalo anche che comunque noi attribuiamo decessi Covid pur sapendo che poi questi decessi devono essere confermati alla fine dall'Istituto Superiore di Sanità, perché tutte le cartelle cliniche di questi malati vengono trasmessi all'Istituto Superiore di Sanità che progressivamente li valida, noi non comunichiamo, questo anche perché l'Istituto Superiore di Sanità è un lavoro che fa costantemente tutti i giorni, ma quando avremo dei dati consistenti da comunicare evidentemente li trasmetteremo. Su Parma dico anche che in questi giorni sono state prese in carico almeno dalle 20 alle 30 case protette, partendo dalla montagna, tornando fino alla pianura, nelle vallate e tutte le 100 case protette che ci sono, ovviamente alcune sono già state visitate, in buona parte le altre sono in corso, lì si va, si effettuano anche i test sierologici agli operatori sanitari, qualcuno mi ha chiesto gli operatori sanitari, ma anche gli OS sono operatori sanitari, certo che anche gli OS sono operatori sanitari, si fanno gli esami sierologici e in caso di positività si procede a tampone. Ricordiamo naturalmente che in questo caso stiamo parlando di dipendenti che sono completamente asintomatici, perché quelli sintomatici evidentemente il tampone lo hanno già fatto. Vi ho già detto anche la percentuale finora che abbiamo trovato, che è attorno al 5-6% di tutti gli operatori sinora a quali sono stati sottoposti a screening, quindi quelli dei nostri dipendenti e anche quelli delle case protette. Stiamo procedendo molto alacremente anche a Parma a fare questo lavoro e quindi noi confidiamo entro la settimana prossima di avere già un quadro molto approfondito relativamente alla situazione dei dipendenti. Sapete che la stessa cosa molte imprese già la stanno facendo per conto loro in attesa di essere pronte per ripartire. A Parma vi ho detto 20 20 decessi, di questi 20 7 sono comunicazioni che vengono dall'Istat su accertamenti di diverso tempo fa, uno addirittura della metà di marzo. Naturalmente per queste persone e per i loro cari non cambia nulla sapere se una causa è stata attribuita successivamente, evidentemente il dolore è uguale, non cambia se una perdita di un caro è dovuta a questo virus o a qualcos'altro. certo che per questo virus, come ho spiegato spesso, anche quando è soltanto sospetto, la cosa che fa più, che provoca più dolore è il fatto che non si possono salutare se non quando è possibile con uno schermo i cari che se ne vanno e quindi questo è veramente drammatico per quello che comporta insomma per questa mancanza che è doppia da questo punto di vista. Abbiamo poi 12 decessi a Modena, 15 a Bologna, 3 a Ferrara, 5 a Forlì Cesena, 4 a Forlì e 1 a Cesena e 2 in quella di Rimini. Non abbiamo decessi da comunicare oggi né a Ravenna né a Nellimolese. Per darvi un'idea di quello che sta succedendo nella presentazione della malattia e anche sui nuovi casi che dopo vi dettaglierò. Parto da Imola che è una situazione che posso spiegare bene perché è un luogo piccolo e quindi faccio rapidamente a valutare i numeri perché sto parlando di numeri piccoli ma hanno un loro significato per quanto riguarda l'intera regione. Immaginate che i nuovi casi sono, quei 4 mi pare casi che vi ho comunicato per Imola, non li ho ancora comunicati ma sono 4, 3 su 4 sono positività di operatori sanitari che è stato fatto il test sierologico e successivamente il tampone e quindi abbiamo un unico vero caso a Imola. Valutate che questo sta accadendo in diverse aziende sanitarie dove stiamo procedendo, ormai vi ho detto ieri siamo dal 30 al 50% dell'effettuazione dei test sierologici sul personale, quindi diversi delle positività al test sono dovute alle positività che troviamo e che rappresentano una malattia già avuta e che ha lasciato il ricordo anticorpale, le difese immunitarie all'interno delle persone e quindi che troviamo e però vengono ovviamente classificate come nuovi casi anche questi. inoltre per esempio per darvi un'idea di quello che sta succedendo all'interno dei nostri ospedali, sapete a Imola abbiamo 16 posti letto di terapia intensiva dedicati al Covid di questi occupati, oggi ne abbiamo 7 e ne abbiamo ovviamente avuti nel pieno dell'epidemia occupati, avevamo fino a 16, a 16 complessivamente con un'occupazione del 100% e abbiamo oggi nei reparti Covid dell'ospedale di Imola su un totale di 118 letti Covid abbiamo ricoverate 39 persone, quindi sostanzialmente 1 su 4, questo è un dato 1 su 3, no 1 su 4, perdonatemi ho fatto i conti a memoria, insomma 39 su 118 circa 1 su 4 e questo è un dato molto positivo perché significa che progressivamente le persone vengono dimesse e di questi 7 ne abbiamo almeno 4 che sono in fase di svestamento dal ventilatore e che quindi sono in procinto di essere dimessi, questo è un dato che rispecchia sostanzialmente l'andamento della malattia. Vi posso dire in generale sulla base invece su base regionale abbiamo oggi 8 letti in meno occupati rispetto a ieri e in 6 giorni abbiamo 70 persone che sono uscite dalla terapia intensiva. Abbiamo negli stessi 7 giorni, avevamo 6 giorni fa 478 ricoverati nei letti ordinari per il Covid, oggi ne abbiamo 66 in meno e, perdonate, i 478 che vi dicevo non sono i letti Covid che come sapete sono circa 4.500, in una settimana ne abbiamo liberati 478. Quindi la malattia è una malattia che oggi ci dà per fortuna negli ospedali molta tregua e noi siamo noi che attraverso le USCA che vi ho descritto, le unità speciali, continuità assistenziale che vanno nelle case, vanno nelle CRA, ma non solo, anche i pazienti, quelli sintomatici, quelli che hanno i sintomi della malattia leggeri e quindi la perdita dell'olfatto, del gusto, magari un po' di febbre o mal di gola o altri sintomi più rari che non sto a descrivere, vengono invitati ad andare negli ambulatori Covid e non solo negli ambulatori Covid, ma anche a volte in aree protette del pronto soccorso dove vengono visitati, vengono sottoposti ad indagini di diagnosi e, se del caso, ricoverati, ma se del caso, pensate che oggi a Reggio Emilia, poi il direttore non voleva che lo dicessi perché è scaramanti, come io lo dico lo stesso, oggi a Reggio Emilia abbiamo avuto 5 ricoveri, immaginate che abbiamo passato giornate in cui a Reggio Emilia si ricoveravano oltre 100 pazienti al giorno, oggi ne sono stati ricoverati 5, queste sono tutte notizie che io vi do, perché probabilmente i numeri rispetto ai nuovi casi e anche i numeri purtroppo rispetto ai decessi ci mettono più tempo nel rappresentare una realtà che noi vediamo invece in questi numeri, ci sono molti più dimissioni degli ospedali, molte, molte più dimissioni rispetto ai nuovi ricoveri e questo deve dare comunque, oltre che una speranza, anche un umore più positivo alle persone, ecco, i sacrifici che stiamo facendo sono sacrifici che stanno dando comunque i risultati sperati, semplicemente forse un po' meno velocemente di come noi immaginavamo di dare. Vi dico quindi a questo punto anche gli altri numeri che non vi ho ancora dato, per cui abbiamo oggi 507 nuovi casi, sapete che tra questi ci sono anche gli operatori che abbiamo trovato positivi per i motivi che vi dicevo prima, quindi sovrastimiamo un po' i casi veri, quelli che hanno bisogno di ospedale, questi sono ovviamente tutti casi positivi con tampone, sono in questo momento nelle loro case e devono fare la quarantena, ma non sono tutti 507 quelli, ma ci sono diverse decine di operatori tra questi. Abbiamo complessivamente fatto, anche di questo abbiamo a tener conto, 5.875 test, che è il numero più alto in assoluto che abbiamo mai fatto giorno per giorno, perché questa è l'indicazione che ci viene dal livello nazionale, e noi procediamo a farlo e a recuperare, devo dire, anche i molti ritardi che voi segnalate, che avete segnalato nei giorni scorsi, e cioè persone che andiamo nelle loro case a fare il tampone, ma ci avevano segnalato la sintomatologia magari 7, 8, 10 giorni fa, stiamo recuperando tutto questo ritardo, in particolare a Bologna e a Reggio Emilia, dove abbiamo i casi in più rispetto alle altre province, perché avevamo qui in queste province più ritardo, anche più ritardo da recuperare. Quindi abbiamo 19.635 totali casi di positività, che ovviamente non sono più tutti attivi, ma abbiamo 8.567 persone in isolamento a casa loro, con sintomi lievi, senza necessità di ricoveri in ospedale, sono 191 in più di ieri, rimangono 341 persone ricoverate in terapia intensiva, vi ho già detto dei cali, e abbiamo i pazienti ricoverati, vi li ho detti, nei reparti normali. Le guarigioni sono 278 in più e arrivano a 3.659. I casi di positività sul territorio, che riguardano la provincia in cui è stata fatta la diagnosi, qualcuno dice, ma perché ci date i casi dove è stata fatta la diagnosi? Se vi diamo i casi dove è stata fatta la diagnosi, perché in molti casi, nel passato, ma ancora oggi, in alcune province arrivano persone che si ricoverano, ma sono residenti in altre province, questo succede, è normale che succeda se magari qualcuno lavora in una provincia differente da quella di residenza, oppure per Piacenza, ma non solo per Piacenza, anche per Parma e anche per Reggio Emilia, ci sono pazienti che provengono e si fanno il testo, si presentano in pronto soccorso in ospedali dell'Emilia Romagna, per questo vi dico che alcuni non sono residenti, hanno fatto la diagnosi in questi casi di Piacenza, sono 14 casi in più rispetto a ieri, sono 3.063 in totale, sono 39 in più a Parma, 2.512, ancora su Parma, vi dico, senza tema di smentita, perché saremmo in tanti a complottare, se fosse un complotto, a proposito di quello che dicevo all'inizio, parlo con molti medici di famiglia di Parma, mi confermano che i casi stanno letteralmente scemando negli ultimi 3 giorni, 3-4 giorni, non sono quasi più presenti i nuovi casi e mi dicono che nell'ultima settimana sono dei molto diminuiti, e con questo non voglio dire che la prossima settimana finiranno del tutto, ma vi dico che oggi i numeri che diamo rappresentano una, purtroppo in gran parte, ricordate che per molto ci siamo basati sugli arrivi di ambulanze, perché in ambulanza arrivavano soltanto Covid, adesso invece hanno ricominciato a presentarsi altre malattie, per questo in questi giorni non vi parlo spesso delle ambulanze, perché vi ho spiegato anche ieri, a Piacenza da qualche giorno abbiamo più accessi per malattie urgenti, per infarti, per ictus, come avevamo prima rispetto ai pazienti Covid, allora guardo di più cosa succede nelle dimissioni dei pazienti, che sono largamente superiori le dimissioni rispetto ai nuovi ricoveri, e quindi in questo caso questo è un dato che fotografa la situazione, a differenza dei nuovi positivi che comunque rappresentano la malattia, per com'era una settimana fa, dieci giorni fa probabilmente. Abbiamo inoltre 135 casi in più a Reggio Emilia, però vi ho detto che oggi i ricoveri su 135 casi sono 5 ricoveri, quindi sono francamente in numero molto molto limitato, a Modena sono 81 in più, 3.011 in totale, sono 117 in più a Bologna, 2.738, sono 4 in più, come vi avevo detto anche prima, a Imola 337, 14 in più a Ferrara sono 580, mentre in Romagna complessivamente tutte le tre province fanno 103 casi in più, in totale 3.629, 13 casi in più a Ravenna, 34 in più a Forlì, 30 in più a Cesena, a Ravenna fanno 789 in tutto, a Forlì 642, 521 a Cesena, 26 in più a Rimini e fanno 1.677. Delle reti ospedaliere non vi parlo, se non però per raccontare che, come sapete, oggi alle 15 il presidente Stefano Bonaccini, insieme all'assessore politica e per la salute Raffaele Donini e al ministro della salute Roberto Speranza, hanno presentato il Lab nazionale, insomma un intervento che servirà, io mi auguro non servirà mai, ma comunque è un intervento che si fa per l'Emilia Romagna, ma soprattutto per questo paese, che consiste nel finanziamento di ulteriori 146 posti letto di terapia intensiva che vengono collegati lungo la rete della regione, e in particolare sono su Rimini, su Bologna-Sant'Orsola, su l'ospedale maggiore di Bologna, su Modena, sui due ospedali di Modena, è una rete regionale, come sapete, che funziona per la nostra regione, per tutto il resto del paese, esattamente come siamo abituati a fare in questa regione, e cioè a fare in modo che i letti non siano bolognesi, modenesi o ravennati, sono di tutti quelli che ne hanno bisogno, perché così siamo abituati in questa regione. Naturalmente si stanno facendo, si metteranno come li vogliamo realizzare, entro il mese di giugno, tutti, alcuni anche rapidamente, presto ai primi di maggio, anche per finanziamenti che già erano in corso, ma che vengono confermati e immediatamente messi a disposizione, come quello di Rimini, dove sono stati stanziati quasi 3 milioni dalla Banca d'Italia, su un progetto che è stato presentato circa un mese fa, e che è già materialmente nella tesoreria della regione Emilia-Romagna, è una rete che funziona e lavora per tutti gli ospedali della regione. Spero anche la prossima settimana di poter dare qualche numero in più rispetto al fatto che i cittadini di varie province sono ricoverati esattamente dove si poteva. ormai tutta l'Emilia-Ovest ha pazienti ricoverati anche in ospedali che non sono i loro, perché questo succede, funziona ed è un sistema che rappresenta la solidarietà della regione, esattamente come il bando che abbiamo fatto per medici e infermieri per le province di Piacenza e di Parma, e anche per quanto, non ricordo se ho detto che c'è un finanziamento anche per Parma, ma lo recupero immediatamente, è così e questo significa che cerchiamo di fare sempre in modo che c'è un'unica regia regionale che lavora sulla disponibilità dei posti letto in regione e che provvede a collocare i pazienti nel momento in cui hanno bisogno. In questo caso la regia sarà anche nazionale perché non ci auguriamo di no, ma dovesse succedere questi posti letto saranno anche a disposizione per pazienti che provengono da altre regioni. Vado avanti con le notizie, abbiamo a proposito di infermieri, in arrivo altri 14 infermieri per l'Emilia-Romagna e anche vado avanti sui dispositivi di protezione individuale, oggi abbiamo distribuiti dall'Agenzia Nazionale della Protezione Civile a quella regionale 10 ventilatori polmonari per terapia subintensiva, quasi 636.000 mascherine chirurgiche, 116.773 FFP2, 3.000 FFP3 e per usi non sanitari altre 123.000 mascherine monovelo che non sono dispositivi di protezione individuale. Sul sito del Dipartimento, su quello del Ministero della Salute, ci sono i dati complessivi, se volete approfondire il tema dei dispositivi e delle apparecchiature distribuiti a regioni e province autonome di questo Paese. Vi ho già detto degli infermieri in arrivo e per quanto riguarda il volontariato, ieri avevamo 1.271 unità presenti volontari della protezione civile, lo dico perché ieri giustamente mi è stato fatto notare che parlo di tutti e non parlo mai della protezione civile. E' vero perché della protezione civile non si parla mai abbastanza, né dei dipendenti della protezione civile. Sapeste in questi giorni che salti mortali hanno dovuto fare i dipendenti della protezione civile per saltare sequestri, per attivare le dogane ai monopoli, per andare a chiedere dei dissequestri, per andare a cercare di recuperare in vari luoghi della nazione dispositivi e attrezzature che ci spettavano ma che erano inspiegabilmente fermi, altri sblocchi in qualche altro Stato europeo che siamo dovuti andare a recuperare. Insomma, stanno facendo come sempre, sono capaci di fare miracoli e anche i loro volontari stanno facendo miracoli perché 1.271 unità impegnate ieri, i volontari della protezione civile, sono un numero decisamente straordinario e che rappresenta l'ennesimo record che possiamo oggi rappresentarvi a voi che siete in ascolto e in visione. Ne abbiamo anche molti, moltissimi, perché abbiamo curato in particolare le consegne di donazioni, di offerte pasquali anche alle famiglie, oltre che naturalmente delle mascherine, della preparazione, della distribuzione delle mascherine. Li ringrazio ancora una volta per l'opera straordinaria che stanno facendo anche in questa emergenza. Abbiamo complessivamente 18.883 giornate di impegno da parte di questi volontari. Abbiamo anche oggi da segnalare l'impegno di 10 volontari che riguardano guardie ecologiche ambientali che hanno trasportato e montato a Bologna due container presso la sede del 118 dell'ospedale maggiore, servono ad uso di magazzino ufficio e si aggiunge un modulo di bagno docce per la svestizione del personale 118 che trasporta pazienti Covid-19. Non dico più nulla dei punti di triage neanche dei drive-thru, invece mi fermo, mi soffermo un attimo ancora sulle questioni che riguardano i ringraziamenti e anche sulla rinormalizzazione delle attività all'interno degli ospedali. Questo è un punto che stiamo esaminando in maniera approfondita e che riguarda le attività che negli ospedali sono state messe in secondo piano purtroppo a causa di questa epidemia. Succede per le attività che sono state sospese e anche naturalmente per quelle odontoiatriche, quelle che riguardano la popolazione fragile e non solo, anche gli studi professionali. Allora alcuni studi professionali sono stati riaperti grazie al decreto Conte che andrà esaminato bene, non so se anche quelli odontoiatrici, perché in quel caso naturalmente il contatto tra le persone è un contatto molto ravvicinato anche se sapete normalmente, insomma almeno per il dentista che frequento io, il dentista che frequento io è sempre molto parato anche quando devo dire non c'era, anche perché l'ultima volta non c'era certamente che ci sono andato il Covid-19, ma insomma sono persone che sono abituate avendo questa vicinanza con le persone a essere per primi loro sicuri di non in qualche modo infettarsi o ricevere schizzi anche di liquidi organici accanto a loro e nello stesso tempo per mantenere la sicurezza dei pazienti su cui intervengono, ma non ci sono solo loro, ci sono tante attività che purtroppo noi abbiamo sospeso e che rapidamente dovremo cercare di riattivare, perché non possiamo permetterci di avere un servizio sanitario che era noto per i suoi risultati in mille settori che in questo momento lavori a senso unico solo per una malattia. Vi ho spiegato che ci sono già diversi ospedali, in particolare a Piacenza, dove si stanno sanificando i reparti e si stanno ricominciando ad occupare di attività che non sono legate all'emergenza virus e mi auguro che questo possa avvenire progressivamente anche negli altri ospedali, perché è quello che naturalmente tutti ci attendiamo. Ho avuto piacere e ringrazio di questo il Presidente che oggi nel suo intervento nella diretta con il Ministro ha parlato della convocazione la prossima settimana di un tavolo per il patto per lavoro anche per valutare le sperimentazioni sulle aperture in sicurezza delle attività produttive che è un tema che a me sta molto caro perché abbiamo comunque bisogno di dare altri segnali di speranza che non sono soltanto legati all'evoluzione della malattia ma soprattutto al fatto che si ricomincia a vivere e vivere significa anche lavorare e vivere significa fare in modo di riconsiderare che questa esperienza sta passando ci mette del tempo dovremo arrivare a una fase in cui si dovrà convivere col virus non dobbiamo avere paura di immaginare il ritorno alla normalità perché non arriviamo alla normalità senza far nulla aspettando soltanto che qualcuno ci dica domani si riapre dobbiamo essere in grado già oggi di mettere in sicurezza le nostre attività produttive attraverso dei protocolli per i quali secondo me e il Presidente condivide siamo già pronti a confrontarci con le organizzazioni sindacali e con le organizzazioni dei datori di lavoro per fare in modo che insieme si condividano insieme si dica queste condizioni garantiscono la riapertura in sicurezza è quello che stanno facendo molte imprese oggi voglio citare la Gd di Bologna perché ha fatto un accordo importante con le organizzazioni sindacali che riguarda la ripresa quando sarà possibile e credo che su questo ci dovremo esercitare particolarmente nei prossimi giorni per essere pronti a quando si ripartirà tutti insieme perché questo dovremo fare insieme a una graduale riapertura anche della possibilità da parte delle persone di tornare a fare quello che facevano prima del lockdown che abbiamo condiviso col governo e anzi in qualche modo come ha dichiarato anche ieri il Presidente Bonaccini abbiamo perfino accentuato perché siamo assolutamente consapevoli siamo stati assolutamente consapevoli che in passato abbiamo preso misure anche più forti pensiamo a Rimini e a Piacenza e anche a Medicina soprattutto riguardo alla necessità di andare anche su misure più importanti di quelle che erano state prese da parte del governo quando è stato necessario abbiamo fatto adesso pensiamo che sia necessario prepararci assiduamente per ritornare a una condizione di normalità infine ringrazio una richiesta che mi è stata fatta poi ci sono i ringraziamenti ho chiuso una persona che attende un bambino mi fa presente credo che sia un'esigenza giusta alla fine della gravidanza chiede se i comuni nelle loro convenzioni con i volontari per portare a casa al domicilio delle persone la spesa possono estendere oltre che gli anziani anche le donne in gravidanza magari negli ultimi due o tre mesi credo che sarebbe un'ottima idea bisogna avere grande rispetto per le donne in gravidanza e per i progetti che ancora le famiglie continuano a fare che dovranno fare soprattutto nel futuro perché non c'è ricostruzione che tenga se non abbiamo progetti nelle famiglie nelle persone che stanno insieme per avere figli per avere una nuova generazione che possa essere in grado di ricostruire e anche di godere dei benefici della ricostruzione dopo un evento così drammatico alla fine di questo ringrazio anche Casa Cialdini di Modena che non ha bisogno di descrivere ai modenesi cosa sia agli altri avrei bisogno di dire e lo dirò che comunque rappresenta un istituto per anziani ed è uno degli istituti per anziani che alla fine alla quale alla fine dovremo dare una grande medaglia perché non hanno fatto passare neanche una volta il covid-19 e quindi sono indenni dall'infezione negli operatori e negli anziani e questo devo dire che mi fa sempre piacere raccontarlo come esempio fantastico di amore per le persone per il proprio lavoro alla fine chiudo con gli auguri per domani naturalmente li faccio in maniera più forte e più vicina a tutte le persone che domani non potranno festeggiare la Pasqua vicino ai propri cari e ce ne sono tante domani mai come nella Pasqua di quest'anno non pensiamo soltanto alle persone che domani lavorano alle quali peraltro va un abbraccio fortissimo in particolare a quelli che vegliano sulla nostra sicurezza e sulla nostra salute quindi a tutte le forze dell'ordine e soprattutto in prima linea consentitemelo a tutti i medici gli infermieri gli operatori sanitari coloro che supportano l'attività degli ospedali e che anche domani passeranno una giornata sono abituati ma domani come tutti gli anni accade ma insomma domani è una Pasqua molto particolare un abbraccio davvero grandissimo a loro ma ci sono tante altre persone ci sono persone che magari vivono sole e avevano la Pasqua come occasione per stare insieme non lo potranno fare anche a loro va il mio pensiero esattamente come alle persone che sono in quarantena nella giornata di domani e che quindi anche loro non possono stare insieme alle persone per esempio coloro che sono negli alberghi sanitari e tra questi faccio in particolare gli auguri a Enrico Bini che è il sindaco di Castelnuovo di Castelnuovo Nemonti che è proprio in una situazione di questo tipo qualcuno di voi ricorderà i più affezionati a questa trasmissione che qualche settimana fa ne avevo salutati i due dei sindaci e tutti e due montanari Enrico Bini oggi è la fine della malattia che ha superato benissimo e l'altro che saluto anche egli è Luigi Lucchi di Berceto che ha ricominciato con la solita testardaggine positiva e con il solito entusiasmo dopo una parentesi diciamo così ospedaliera di cui peraltro ho dato assolutamente notizie quindi non svelo alcunché è tornato naturalmente sul pezzo lo saluto con un grandissimo abbraccio è una persona che ha sempre come tutti i sindaci al di là di ogni colore politico lavorato per il meglio delle loro comunità bentornati a tutti e due e ancora nuovamente un augurio un grande augurio di buona Pasqua a tutte le persone che domani si occuperanno degli altri sono tante nella giornata di domani e credo che abbiano bisogno di un augurio e anche di un grazie da parte di tutti noi noi ci rincontriamo se vorrete lunedì alla medesima ora per un aggiornamento sul covid-19 auguri di buona Pasqua a tutti di buona Pasqua di buona Pasqua